salve amici e bentrovati a questa nuova trasmissione dell'auto 2m dunque come saprete le nostre concessionarie le nostre sedi sono a scandici in via salvatore allenda al numero 14 il numero lo vedete sul vostro schermo ed a firenze nel viale fratelli rosselli al numero 47 sede tradizionale dell'innocenti auto 2m è inutile dirlo concessionaria per firenze della innocenti questa marca che veramente sta risorgendo con la fiat ha una gamma molto valida ci sono c'è la city car che è la vettura più economica al mondo costa meno di tutti pensate che sotto a 10 milioni addirittura la versione l con 7 milioni 9 90 potete acquistarla è l'unica macchina che costa queste cifre qui vanno molto bene catalizzate sono delle vetture economiche e poi abbiamo cosa dire dell'elba l'elba è una weekend a un prezzo strepitoso perché non se ne trovano altre addirittura al di sotto dei 15 milioni ma auto 2m in questa trasmissione vi farà vedere anche delle altre vetture di altre marche perché auto 2m non è solamente concessionaria innocenti quindi avremo modo adesso di vedere una carrellata di usato e altri nuovi che troverete all'auto 2m ed ecco le favolose innocenti questa come vi ho detto è la vettura la city car più economica che ci sia oggi in italia la city car tra l'altro italiana più economica infatti partiamo da un allestimento l quindi versione base che costa 9 milioni e 400 mila lire in questo momento viene offerto con uno sconto di un milione e mezzo quindi si va a 8 milioni e qualcosina di meno 7 milioni 9 90 per l'esattezza abbiamo l'allestimento ls che costa 10 milioni e 328 mila lire queste macchine pensate hanno tutte la quinta marcia hanno gli appoggiatesta la versione ls anche gli alzacristalli elettrici sedile posteriore sdoppiato sono delle macchinine da città e perché no anche per viaggi a medio raggio diciamo o anche a lungo raggio ecco che sono veramente molto valide economiche consumano pochissimo hanno un motore molto valido che la nostra officina veramente non vede quasi mai perché proprio non si rompono passiamo ora all'ultima nata l'ultima nata ma ormai è già più di un anno degli innocenti e sono le elba le elba vengono offerte in versione tre porte cinque porte motori benzina e motori diesel è uscita adesso la versione van che serve proprio per il lavoro costa veramente ad un prezzo stracciatissimo 14 milioni e 700 mila lire circa ecco queste macchine potete trovarle tutte da noi all'auto 2m concessionario unico per firenze e quindi nel viale fratelli rosselli oppure nella nostra sede di scandici in via salvatore alliende vi propongo adesso un altro marchio di prestigio la rover ecco questa marca è veramente eccezionale ha dei prodotti favolosi si parte dalla 111 nella versione 111 ossia motore 1100 la 114 motore 1400 sono delle macchinine veramente eccezionali sono belle eleganti come è d'altronde nello stile della rover e poi c'è da dire anche i novissimi modelli quelli che sono al top della gamma ossia le due coupe le ultime uscite la 216 la 220 coupe e la 820 coupe ecco queste macchine veramente sono delle vetture che hanno delle caratteristiche di eccezionalità sono riusciti a fare agli studi le stabilimenti della rover delle linee che sono davvero eleganti direi e sportive quindi sono riusciti a trovare un giusto compendio tra l'eleganza e la sportività di queste vetture che hanno delle prestazioni davvero fuori del comune ecco da noi le trovate a condizioni eccezionali passiamo ad alcuni esempi di usato di questa settimana qui vedete un bellissimo fuoristrada una jeep cero chi del 1986 unico proprietario con aria condizionata a soli 13 milioni 800 mila lire ve lo possiamo dare anche con 18 rate da 555 mila lire senza interessi 145 sl scioneri del 1986 unico proprietario a soli 5 milioni e 500 mila lire ricordatevi i nostri finanziamenti agevolati o addirittura a tasso zero ancora una golf 1300 porte bellissima peccato vi devo dire che al momento non è già venduta guardate su questa c'erano 5 milioni senza interessi ecco però voi telefonate telefonate lo stesso anche se non troverete più queste occasioni perché ne abbiamo tantissime altre e sapete bene non sono solo queste questa per esempio del 1988 8 milioni e 300 mila di cui vi diamo 5 milioni senza interessi quindi io vi invito a telefonare a numeri che voi vedete in sovrimpressione perché all'auto 2m fate sempre degli ottimi affari vi facciamo pagamenti a tasso agevolato o addirittura interessi tasso zero dunque come saprete le nostre concessionarie le nostre sedi sono a scandici in via salvatore allende al numero 14 il numero lo vedete sul vostro schermo ed a firenze nel viale fratelli rosselli al numero 47 sede tradizionale dell'innocenti auto 2m è inutile dirlo concessionaria per firenze della innocenti questa marca che veramente sta risorgendo con la fiat ha una gamma molto valida ci sono c'è la city car che è la vettura più economica al mondo costa meno di tutti pensate che sotto a 10 milioni addirittura la versione l con 7 milioni 9 90 potete acquistarla è l'unica macchina che costa queste cifre qui vanno molto bene catalizzate sono delle vetture economiche e poi abbiamo cosa dire dell'elba l'elba è una weekend a un prezzo strepitoso perché non se ne trovano altre addirittura al di sotto dei 15 milioni ma auto 2m in questa trasmissione vi farà vedere anche delle altre vetture di altre marche perché auto 2m non è solamente concessionaria innocenti quindi avremo modo adesso di vedere una carrellata di usato e altri nuovi che troverete all'auto 2m ancora un nuovo marchio all'auto 2m daiatsu che è giapponese e bertone ecco questi qui sono dei free climber 2 su carrozzeria su scocca della daiatsu feroza bertone ha elaborato questi bellissimi fuoristrada sono dei fuoristrada e vetture anche stradali hanno un motore 1600 bmw sono veramente eccezionali per le loro prestazioni vanno bene ripeto sia in città su strada che fuoristrada e daiatsu adesso in italia sta importando anche veramente una macchina che si può dire una bomba è la famosissima charade 1000 gtt quindi una vettura turbo intercooler iniezione 12 valvole perché pensate questa macchina ha solo 3 cilindri 993 di cilindrata sviluppa 101 cavalli e va a oltre 200 km orari quindi se non è una bomba questa veramente non ce ne sono altre questa è l'auto la 1000 più veloce del mondo vi invito a venire da noi a provarla perché solo qui potete trovarla per firenze a condizioni sempre vantaggiose parlando di auto 2m ricordatevi che avete sempre finanziamenti a tasso zero o degli sconti che solo da noi trovate sotto forma anche di supervalutazione del vostro usato piccolo esempio di usato auto 2m panda 750 young del 1989 a soli 5 milioni e 800 mila lire ricordatevi che i nostri usati sono sempre garantiti dall'auto 2m sono garantiti personalmente da me questo che vedete è una fiat 500 nuovissimo modello appena un anno di vita catalizzata a unico proprietario ovviamente a 8 milioni e 950 mila lire usato particolare free clamber bertone questa macchina è stata immatricolata come autocarro zero chilometri come potete vedere il prezzo è di 31 milioni e 500 mila lire quindi 7 milioni meno di quello che costava l'istino con 15 milioni senza interessi ancora un usato particolare moto k100 rt questa macchina ha fatto pochissimi chilometri potete vedere in ottime condizioni a 6 milioni e 900 mila lire vi voglio ricordare il nostro servizio no stop per l'usato e per il nuovo quindi praticamente potete telefonare quando volete nelle 24 ore perché abbiamo anche un numero di cellulare potete chiamare in qualsiasi momento per avere tutte le informazioni che volete sia sul nuovo che sull'usato grazie a tutti